Allarme rosso. Conosci il ginseng rosso? È il tuo alleato contro la stanchezza della pelle. Da dove viene? Dall'Asia. Dove il ginseng è conosciuto per le sue proprietà stimolanti. Ginseng ok, ma quello rosso? Il ginseng viene esposto al vapore ed essiccato. Un processo che attraverso diversi passaggi lo trasforma in una polvere rossa. Ma come agisce sulla pelle? Aiuta a combattere i segni della fatica. Rivela un colorito sano e una pelle luminosa. Addio aria stanca. Ora che conosci il ginseng rosso, lo trovi nella nuova Revitalift crema rossa energizzante da L'Oreal.